Allora, siamo arrivati alla fine, niente, l'ora è troppo stretta per noi, diciamo. Allora, intanto tanti auguri di buon Natale a voi e a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Ciao Olavi, ci vediamo a gennaio. Ciao Moggio, ti auguro un buon Natale. Grazie a voi, grazie a voi. E tu tornerai sicuramente, Sabrina anche per forza. Ma certo. Insieme al tuo amico che sta qui, non l'abbiamo ancora presentato, Francesco, ciao. Francesco, verrai perché appassiamo di cinema e quindi ci faremo un'altra ghiacchierata di cinema. Così io potrò sentirmi sempre di più quella nullità che sono. Quella che non vedi niente, che non sai... Esatto, va bene. Va bene, grazie Gigi, buon Natale. Ciao a tutti, buon Natale. A gennaio, ciao. Ciao.